Altro giro, altro colpo per la Delfes, la compagine avellinese, grazie ai buoni uffici del DS, Antonello Nevola strappa un altro sì. Si tratta di Luca Cepic, il play si va ad aggiungere al roster a disposizione del duo Robustelli, formato. Cepic, Montenegrino, classe 2001, nella passata stagione si è messo in evidenza con la maglia della Frata Nardò, con pagina leccese che ha vinto il campionato, approdando in Serie A2 due playoff portati a casa al termine di una serie bellissima contro gli abruzzesi di Roseto. Cepic, con venga, farà parte della sezione under. In Italia il play alto 1,90 m, dotato di buon fisico, ha giocato sempre in Puglia, militando in diversi club giovanili dell'Interland Salentino. La Delfest si assicura un altro giovane di prospettiva. Il club avellinese, con Canoni, con Evola e Rotondi, conferma la volontà di programmare e gettare le basi su un progetto basato sull'esperienza, visto gli ingaggi dei veri Marra, Basile e Spizzichini, ma allo stesso tempo un progetto che valorizzi i giovani talenti della Palaspicchi italiana.